Buongiorno, buona gente, questo cordiale saluto vi giunge dagli studi di ETV per la nostra vostra rassegna stampa che dalle marche, dall'Italia non solo vi racconta quello che viviamo nel periodo estivo nello stesso modo con il quale facciamo per il periodo autunno, inverno, primavera come fosse una sfilata di notizie. Dicevo ieri, dalle 6.45, quindi abbiamo lo stesso orario, la stessa durata e sempre in diretta, non più i 30 minuti reiterati del periodo estivo che utilizzavamo nelle scorse stagioni, l'obiettivo è quello di starvi vicini, di tenervi compagnia, di informarvi all day long per tutto il giorno. Ecco intanto una bella immagine che ci mandate, mi pare di non sbagliare se dico che quella dovrebbe essere Loreto, la Santa Casa, il cupolone, grazie per questo messaggio, per questo saluto, ci mostra anche il cielo. Buongiorno da Loreto, c'era anche la didascalia e quindi grazie, un abbraccio. Buongiorno da Claudio di Treia, il Santissimo Crocifisso in ricostruzione, speriamo di poter rientrare presto. Che bello questo scorcio, si nota tra l'altro, viva le amiche e gli amici di Treia, anche la gru, il cantiere e anche le impalcature che avvolgono il Santissimo Crocifisso. Insomma, per chi ci conoscesse da poco, non ci conoscesse neppure e cominciasse oggi questa nostra rassegna stampa, ecco, questi sono gli ingredienti principali. Il buongiorno e il buonasera, anche perché no, i vostri messaggi, il meteo e tante tante notizie. Per questo mercoledì 3 di luglio, che cosa dobbiamo aspettarci? Dopo le piogge sporadiche ma presenti della giornata di ieri, ecco come anticipato il bel tempo che varrà per tutta la giornata, con temperature che mano a mano crescono nella giornata di domani in particolare e dopo domani, fino ad arrivare verso il weekend. Quando torneremo a Bokejar, oggi ancora un po' di freschetto, non si tornerà sopra i 30 gradi. Sabato invece sì, le massime andranno a 32-33 gradi, domenica 7 anche meglio o peggio, a seconda dei punti di vista, con temperature anche a 34 gradi centigradi. A proposito di punti di vista, il talk show delle Marche, questo giovedì avremo una puntata speciale. Il format si è fermato, come da tradizione per il periodo estivo, insieme con Sibilla, le voci della ricostruzione. Il format che va solitamente durante il periodo attunno-inverno dalle 22 del giovedì, subito dopo appunto Sibilla. Questa settimana avremo una piccola ma piacevolissima digressione sul tema, perché giovedì 4 luglio dalle 21, salutando e ringraziando la collega Maria Pia Tedesco, sul 17, martedì 9 luglio alle 20.40 sul 12 avremo punti di vista speciale dedicato a Don Bartolomeo, 60 anni di servizio verso gli altri. Poi il 14 luglio dalle 11 la messa dedicata appunto alle celebrazioni per questo straordinario interprete della vita, della fede. Un abbraccio a Don Bartolomeo che grazie a Maria Pia Tedesco ho potuto intervistare. Ma la faccio breve e torno sui giornali per chi ci segue già dalle 6.45 del mattino e vado a raccontarvi una notizia per ogni provincia. Il tema principale, secondo l'edizione online del Corriere, riguarda la salute. Una piccola grande rivoluzione alle viste a Torrette. L'oncologia si sdoppierà e ci sarà un primario solo per il seno, solo per la senologia. Ancona si candida davvero ufficialmente a diventare il punto di riferimento nazionale del tumore al seno, grazie anche alla splendida professionista, la prof. Rossana Berardi, della quale abbiamo raccontato tanto grazie a tante interviste, ma non ci stancheremo mai di citarla e di ringraziarla. Tante notizie, dicevo, ma anche tanti titoli. E allora, dall'Anconetano, una notizia per ogni provincia. La segue, si spoglia e poi scappa. Caccia al centauro esibizionista. È successo a Senigallia, non vi dico i messaggi rivolti a questo soggetto con tanti epiteti negativi. Cerchiamo di mantenere l'educazione, anche se capisco la reazione di pancia. Però buongiorno e tv per caratteristiche, insomma, non scivola mai nell'offesa. Caccia al centauro esibizionista. È successo nella zona di Senigallia. Ancora news, questa volta dalla provincia di Fermo. Siamo ad Amandola. Saluto chi ci segue da quelle parti. La rabbia del sindaco, fresco di rielezione, Marinangeli. Bypass, lavori fermi e in ritardo di quattro anni. Dalla provincia, nessuna risposta. Situazione che oramai è diventata, secondo il sindaco, incresciosa. Un'opera fondamentale per la città, ma anche per facilitare e snellire il traffico nell'area montana. Tutto fermo. Questo per il fermano, ma gioco di parole involontario. Andiamo ora verso Ascoli, perché era nell'area, è stato anticipato più volte, ora è ufficiale. Russell Crowe sarà in concerto, in piazza. Come devo fare? Come devo prenotare? Non si deve prenotare nulla. Quanto costa il biglietto? Così rispondo a altri messaggi. Non si deve pagare alcun biglietto. È un regalo alla città che Russell Crowe, secondo cui a detta sua, è originario dell'Ascolano. In realtà da un paese dell'Emilia-Romagna è venuto fuori che i suoi avi fossero emiliano-romagnoli, non marchigiani, ma lui dice che è marchigiano. Chi oserebbe dar torto a decimo massimo meridio e quindi al generale romano Maximus, come vuole il film Il Gladiatore, tra l'altro si sta girando la versione 2 del Gladiatore. Intervento quindi gratis l'11 di luglio. Non ci sarò, non ci saremo e TV sarà impegnata in altre faccende affaccendata per la seconda serata l'11 luglio di Caffè Teatro. Ieri tra l'altro abbiamo messo in onda un simpaticissimo piccolo estratto di quella che è stata la serata con Piero Massimo Macchini. Dura un minutino, quasi quasi. Ve lo faccio vedere e sentire. Giusto per cominciare un po' con il sorriso, questa giornata ne abbiamo tanto bisogno. Vai Piero Massimo Macchini. Io ho fatto lo scientifico, ma non come tutti quanti voi in 5 anni, l'ho fatto in 7, perché c'era il latino che era la lingua morta e io per resuscitarla ci sono voluto un sacco di tempo. Ho anche studiato i classici grecci, l'aclido, soffro, il clitorino è tantissimo per dire. Perdonami se te la faccio, secondo te il pene è un muscolo? Sì, sì, infatti mi tocca gli imbalestri. I miei talenti? Amore, ma io c'ho dei debiti che mi corre dietro con le cavasacchie. Come faccio a pinzare i talenti? Giacomo, come lo rappresento io su YouTube, andatelo a vedere, per me usciva a Recanati alla fine degli anni suoi e parlava in alcunetano per dare un tocco e cercava Silvia. Silvia, coca, dove stai? Conci' hai entrato a testa, la renea dalle becche, Silvia. Se te Chiappo ti porto la cartiera di Fabiano, poi fra una risponata ti dà una colonnata col pennello mio, eh? Silvia. E Silvia non ti rispondeva, sapete perché? Si chiamava Teresa. È normale che lui rispondeva. Fatichi, fatichi. Infatti la sera quando uno esce nelle macchine dice stasera esco, ma stasera scappi. Perché scappi dalla fatica e non gliela fai più. Che pesante, che dura. Questo è un po' per raccontarvi quello che è successo il 27 giugno. Si torna a Villa Nappi l'11 di luglio, prenotazioni già aperte. Andiamo ora ancora ai giornali. Eravamo sul fronte, appunto, 11 luglio. Russell Crowe ad Ascoli Piceno, un regalo alla città, ingresso gratuito. Ci spostiamo, sempre una notizia per ogni provincia, in zona cingoli, ladri scatenati, cingoli sottotiro. Tre furti in pochi giorni, rubati preziosi in un'abitazione. L'ultimo ride in un appartamento a San Vittore, stanze a soquadro. Eccola la violenza fisica nei confronti dei propri affetti, dei propri ricordi, delle proprie intimità. Ci si sente davvero sporcati quando si subisce un furto in abitazione. Ecco, nella foto si nota dal giornale questa fotografia votiva di Padre Pio da Pietrelcina, San Pio, in uno cassetto di quelli che è stato svuotato. Dalla zona invece di Ascoli, provincia Passiamo al Pesarese, morto il dottor Luigi De Angelis, addio al cardiologo che amava il mare, era un vero maestro. Lo ricorda così il presidente dell'ordine, aveva 92 anni da Pesaro. Ora le notizie di carta stampata, perché abbiamo le edizioni del Corriere, tutte le edizioni locali, abbiamo iniziato attorno alle 6.45 con l'edizione del Fermano, riapro, riparto dal Pesarese. Ma le leggiamo tutte le prime pagine, come sempre. Campo base per i cantieri, villaggio ampli e bretella gamba picca, un'accelerazione per il piano delle opere accessorie. Erosione divorata, una fila di ombrelloni, Ser Filippi a Ponte Sasso promette progetti celeri. Le mareggiate di queste ore neanche esagerate, tra l'altro da un lato certamente creano problemi per la spiaggia, dall'altro però dovrebbero ripulire in maniera decisa dalle mucillaggini, che è un tema affrontato tanto ieri. Addio ad Angelis, sempre da Pesaro, il maestro di vita del cuore del mare, salutato anche poco fa, ha mostrato una foto. Ha ucciso l'amico, si apre il processo contro Alessandrini. Pesaro, travolto dal camion, un ragazzo di 18 anni, rischia seriamente di perdere una piede, era in motocicletta. E poi, biodigestore, lavori al via, Ferronia investe 18 milioni di euro, sfruttata la proroga concessa dalla provincia, l'opera da completare entro il 13 giugno del 2026. E su questo progetto, da terre roveresche, insomma, arriva un po' di agitazione via sms. Leggeremo tutto. Ieri non c'è più, domani non c'è ancora. Il giorno più bello della tua vita è sempre oggi. Buongiorno, grazie. È un concetto che esprimevo anche ieri. Ieri è troppo tardi, domani non si sa. Oggi bisogna cercare di dare del nostro meglio. Buongiorno Mauri, ti aspettiamo a Rumana. Il 14 agosto ci dice Francesco. Grazie Francesco e grazie al maestro Marco Santini, che anche quest'anno mi vorrà al suo fianco. Buongiorno. Con grande emozione i soci del Lions Club Osimo comunicano che questa sera a Filottrano ci sarà l'insediamento del nuovo club satellite Lions di Filottrano. L'appuntamento alle 19.30, Palazzo Accorretti Balbi di Filottrano, aperta alla cittadinanza. Grazie a Leonardo Puliti che ci lancia questa segnalazione. Appuntamento dunque a Filottrano questa sera alle 19.30. Interverranno il sindaco di Filottrano, Luca Paolo Rossi, il presidente Lions Club Osimo, Nazareno Donzelli, l'immediato past governatore Lions, Marco Candela. Grazie per questo messaggio. Torno ora dopo il pesarese all'Anconetano, sempre con il Corriere. Poi toccheremo i giornali del Carlino, tutte le prime pagine. Maxi Arena, rischio flop. Ieri il Corriere attaccava sul fatto che ad agosto non ci siano eventi trainanti in città, ad Ancona, capoluogo regionale. Oggi altra stilettata sul rischio flop alla Maxi Arena, perché da domani scatta l'Ulisse Fest. La prevendita però è andata a rilento per Brondi. La Francini, artista straordinaria, l'abbiamo conosciuta ultima o non ultima anche al Festival di Sanremo, ma insomma non c'era neanche bisogno per chi apprezza questa attrice, performer, eccetera. Da Forfè all'improvviso il suo spettacolo è saltato, si monta il palco, ma al Porto Antico c'è ancora degrado. Zitti zitti invece il taglio centrale che l'Ancona si iscrive, Marconi a capo di una accordata con uomini di lotito e stirpe. Oggi alle 19 la presentazione di questa accordata e noi saremo presenti. Una folla per Abdu, annegato a 12 anni, episodio drammatico di Falconara, c'è una raccolta fondi per la famiglia che riporterà il dodicenne in Senegal. Pestaggio filmato col cellulare, denunciati tre bulli a Iesi, ci scriveva poco fa un papà preoccupato appunto perché la figlioletta fa scuola a Iesi. Senigallia, il centauro si denuda davanti a una ragazza che stava portando a spasso il cagnolino, caccia all'esibizionista. Infine, la piccola pesca in trappola, alghe, siamo fermi da un mese, un disastro come fu nel 1990. Io su questo ho anche uno scatto fotografico che racconta proprio, eccolo, voglio farvi capire, salutando le operatrici e gli operatori del mare, in che condizioni si trovano. Guardate questa cassetta, completamente insozzata dalla mucillagine. 349 39 18 16 9. Completo il quadro del giornale per Ancona e provincia e vi porto teste verso Macerata. Passando però per il caso Ancona, la questione del calcio, perché vi ho dato un'anticipazione. Oggi alle 19, la presentazione dell'accordata messa insieme dalla sindaco Silvetti è con un passaggio. C'è in atto una forte collaborazione fra alcuni imprenditori che sono sostanzialmente marchigiani, alcuni di quali anconetani proprio, e che ci consentiranno di iscriverci alla Serie D e chiaramente di ternire fede a quell'impegno e cioè di dare continuità al calcio anconetano. Dalla mission impossible alla missione possibile. Ecco le notizie più attese da un mese a questa parte per il futuro dell'Ancona Calcio. Le rese pubbliche il sindaco di Ancona Daniele Silvetti. Quelle disponibilità parziali sono state aggregate e ora la nuova accordata viaggia spedita verso la quarta serie. Gli addempimenti che dovranno essere svolti da qui alle prossime 48 ore o poco più insomma saranno decisivi perché si tratta di costituire una nuova società e di svolgere e di rispettare quelle prescrizioni che la FIGC ha dato quando quel 24 giugno ha comunicato al sindaco di Ancona la disponibilità di iscrivere la città di Ancona in primis e quindi di una nuova società nei campionati direttantistici. E noi appuntamento questa sera alle 19 seguiremo la presentazione chiaramente canale 12. Macerata e provincia negozi nella gabbia dei cantieri Odissea per i lavori in corso in Via dei Velini e alla Galleria delle Fonti appello dei commercianti si difende l'assessore Marchiori in poco tempo abbiamo ottenuto più risultati che negli ultimi 20 anni. Questa è la sua chiave di lettura. Cingoli purtroppo questa foto che vi ha colpito ha colpito anche me assegno tre colpi stanze a soquadro furti nelle case cingoli sotto tiro eccolo il letto disfatto la roba ammassata buttata qua e là e questa foto di San Pio da Pietralcina Sibillini ed intorni niente serata finale allo Sferisterio ed è un peccato un po' come per la Francini rinasce la chiesa di San Francesco parte il restauro ci hanno mostrato poco fa anche una foto da distante dei lavori in corso dalla pubblico dal 349 39 18 169 Rione Villa dei Pini i marciapiedi sono impraticabili protesta a Civitanova infine Tolentino vandali nell'area verde l'allarme dei residenti staccionata di velta al foro Boario chiesti interventi per garantire la sicurezza buongiorno da Como tanto per cambiare piove ci scrive l'amica Maria Crocerizzo e si nel nord Italia purtroppo continuerà il brutto tempo Marzia buongiorno con te le giornate brillano e prendono fuoco grazie Marzia che carina prendono fuoco in senso metaforico chiaramente proviamo a tenervi compagnia informandovi Betta Gioia buongiorno Alessia Rumori buongiorno un abbraccio a te alle tue gemelline buongiorno Maurizio da Enrico un abbraccio a te caro Enrico e buongiorno anche da Chiaravalle da Lorena che ci dedica questo caffè con vista da Chiaravalle la Vallata si vedono anche un po' di Sibillini un abbraccio grande grande a te e a tutti coloro che ci seguono da quelle parti vado ora dopo il Corriere per la zona del Maceratese al Corriere edizione Ascoli e San Benedetto poi andrò al Fermano e poi ripartirò da capo con le news del Carlino traffico di droga tra Marche Abruzzo Germania Spagna e Ucraina 14 arresti anche tra questi in provincia di Ascoli Piceno hashish e cocaina arrivavano nei camion nascosti dentro pensate casse acustiche quelle per i concerti per intenderci spazio nel Piceno e nel Fermano c'è anche della bella gente della bella gioventù ed una buona notizia il trofeo degli Chalet 2024 molto sentito a San Benedetto sfide tra 200 giovanissimi a beach soccer cioè calcio a dispiaggia vince l'Orca Orca hanno vinto loro ampliata la ZTL di Ascoli occhio cittadino avvisato mezzo multato in centro soltanto le auto dei residenti San Benedetto assediati dai ladri il quartiere vuole la videosorveglianza e ancora Grotta Mare atmosfere anni 60 l'estate è bella se si vive ballando è bella se si balla a Grotta Mare e poi una notizia che ha colpito perché tanta gente si accorta dei NAS nucleo antissofisticazioni che entrano in ospedale e non è mai un bel segnale stanze e bagni da rifare ispezione a sorpresa ieri al reparto di cardiologia del Mazzoni che è l'ospedale di Ascoli l'AST cioè l'azienda sanitaria territoriale si discolpa interventi già previsti in scaletta quindi è vero le stanze e i bagni sono da rifare l'AST dice lo faremo grazie per questa conferma avevamo già previsto tutto buongiorno Maurizio buongiorno a te buongiorno è possibile trovare un compromesso tra divertimento della movida estiva chiede Teresa e chi invece lavora o semplicemente vuol dormire ci sarà una soluzione nel rispetto di tutti chi ha qualche idea punto di domanda intanto grazie per la riflessione non è semplice far convivere coesistere la voglia di divertirsi da una parte e il bisogno di dormire dall'altra sono due cose un po' poco conciliabili certo se ci fossero locali strutture fuori dai centri abitati sarebbe anche anche meglio allora torno ai giornali tra un secondo perché prima ho sentito la notizia verso la fine dell'annuncio di un'intervista a Don Bartolomeo si è vero confermo vorremmo sapere il giorno e l'orario perché è stato il nostro prete al matrimonio nel lontano 2003 un saluto è un ricordo positivo quello che hai di Don Bartolomeo ricordi di matrimonio insomma scherzo chiaramente certamente sarà stato un bel ricordo e allora ti ripeto le date e gli orari ma lo annunceremo anche ufficialmente una trasmissione speciale punti di vista dedicata proprio a Don Bartolomeo giovedì 4 luglio quindi domani per intenderci alle 21 sul canale 17 martedì 9 luglio alle 20 e 40 sul canale 12 e poi il 14 ti invito a seguire con noi la diretta della messa su e tv a partire dalle 11 proprio dedicata a Don Bartolomeo ho avuto io il piacere di intervistarlo una persona di una dolcezza di una profondità e di una storia un'esperienza incredibile primo gruppo whatsapp del 1930 è bellissima whatsapp con le zappe del 1930 oh grazie a voi riusciamo anche a fare un sorriso in una giornata insomma un po' delicata in particolare per il calcio odorico come mi scrivono il fermano traffico di droga 14 arresti notizie che abbiamo trovato anche sull'edizione Ascolana droga spedita dal Sud America ma ci sono anche notizie belle come il mercatino del giovedì si riparte torna il 4 quindi domani il tradizionale appuntamento a fermo in piazza con tanti tanti espositori più di 40 anni di storia Porto San Giorgio protezione civile un campo ad hoc dedicato ai giovani per crescere nella consapevolezza anche del valore dell'aiuto bypass ad Amandola sempre dal fermano lavori fermi da diversi anni l'ira del sindaco riconfermato recentemente Marinangeli Montefortino turismo sui Sibillini un progetto punta a rilanciare l'area infine stretta sugli affitti brevi qui servono più controlli dibattito in consiglio le richieste di rattanzi il turismo vive con difficoltà la concorrenza diciamo dell'affitto breve tramite le piattaforme Airbnb booking eccetera Giovanni buongiorno buon mercoledì Quartina buongiorno Laila buongiorno Marzia buongiorno ancora una volta mi chiedono se sia già pieno giovedì prossimo c'è più di una settimana di tempo credo che è già pieno credo che il riferimento non so se sia a Russell Crowe che si presenta l'undici in piazza appunto a fermo scusate ad Ascoli oppure sia il riferimento a caffè teatro di cui abbiamo già sentito poco fa anche l'intervento di Piero Massimo Macchini trovate la notizia anche sul nostro sito debutto sold out il sold out è riferito alla giornata del 27 di giugno per l'11 di luglio ci sono ancora biglietti la comicità marchigiana esiste questo è il messaggio forte arrivato da Piero Massimo Macchini tra i protagonisti anche il grande Marco Santini vado alle edizioni del Carlino velocissimissimamente a proposito di Russell Crowe già citato aspettando il gladiatore l'11 luglio concerto gratis in piazza non sarà neanche necessario prenotare però chiaramente i posti saranno limitati c'è chi si annuncia anche già nella notte precedente in coda potrebbe succedere potrebbe anche non succedere rapito e liberato a Mosca lieto fine da San Benedetto il racconto dell'amico dell'imprenditore Guidotti che era finito nelle mani della criminalità che shock ora sta bene un'altra news questa volta dal Fermano è il sorriso bello è quello di Veronica Contrada Pila alla sua dama aprirà il corteo si parla della rassegna di Fermo in quanto detentrice del Palio ha due passioni la pallavolo chiaramente e la Contrada Pila che è campione in carica non ce ne dimentichiamo macerata la città nella morsa dei cantieri capiamo i disagi ma è per il bene della città la risposta dell'amministrazione comunale tentata estorsione Cerolini in carcere nei guai l'imprenditore Civitanovese deve scontare una pena definitiva di tre anni e quattro mesi poi la fotonews centrale dedicata allo sferisterio questa stagione lascerà il segno il sovrintendente Cavalli parla di spettatori da tutta Italia e da tutta Europa Festival delle vongole a Civitanova con polemiche non alle divisioni perché da cosa sono nate alcune incomprensioni perché il pescato presentato era della marineria anconitana e non della Civitanovese e questo ha creato un po' di di malumori diciamo così buongiorno Maurizio purtroppo torno da voi è una brutta realtà anche mio figlio frequenta la scuola a Iesi e andando a prendere l'autobus a Portavalle ne vede di tutti i colori ma succede in tante città non solo a Iesi però devo fare i complimenti alla preside dell'ITIS Marconi che è sempre vicina ai nostri ragazzi e alle famiglie è sempre presente ad ogni problematica non la conosco personalmente ma mi fido di te quindi tanti complimenti alla preside dell'ITIS Marconi se vuoi dirmi anche il nome assolutamente la citerò perché questo messaggio perché proprio poco fa parlavamo tra le altre notizie della caso Ancona e provincia di Ancona si parla sul Carlino dell'Anconetano proprio ancora una volta di un episodio di cronaca da Iesi picchia in strada un ragazzo mentre l'amico fa un video ennesimo episodio di bullismo ma per fortuna c'è anche della bella storia da Castelfidardo l'impresa di Andrea Lanaria Messina dopo l'infortunio sul lavoro lo stretto a nuoto senza le braccia questo il suo racconto veramente un uomo straordinario e ve lo voglio mostrare lo sbarco dei profughi della Geobarens venduti e torturati noi eravamo presenti ieri per non dimenticare per non voltarci dall'altra parte buongiorno il sindaco Silvetti ci può fare il grande per iscrivere Lanconi in serie D una vergogna sarebbe meglio tagliare l'Albarda per la strada all'uscita del cimitero di Petra Croce grazie per questa riflessione chiaramente le due cose non sono collegate non è che si scrive l'Ancona ma in cambio non si fanno gli sfalci sono due temi